Siamo arrivati al telegiornale del Veneto. Sul podio non encomiabile per numero di incidenti mortali sul lavoro, Villa Franca si mantiene al posto più alto in regione. Ieri a Villa Franca l'ennesimo episodio fatale. Si parla di prevenzione, tema questo al centro di un recente incontro in prefettura con diversi rappresentanti delle professioni, eppure l'obiettivo sembra difficile da consolidare. A volte manca volontariamente il rispetto delle regole, racconta un lavoratore. Ne ha raccolto la testimonianza Matteo Mokrovicic. Da noi sono successi infortuni in quanto riguarda il lavoro in altezza, perché comunque c'erano scale addirittura non certificate. Chi parla è un operaio del settore metalmeccanico che racconta come nascono gli infortuni sul lavoro. Leggerezza, abitudine a ripetere, processi sempre uguali, ma anche il mancato rispetto delle regole previste per l'utilizzo dei macchinari, per aumentare la produttività. A Verona, che in Veneto è maglia nera, negli ultimi giorni si sono verificati due casi. Martedì uno alla ceieria in città, ieri il secondo mortale a Villa Franca. Due settimane fa in prefettura l'ultimo incontro che ha visto coinvolti anche i datori di lavoro e gli ordini professionali per spingere sulla prevenzione. I sindacati, CGL, Cisle e Willi insieme, chiedono un cambio di rotta. Non è possibile immaginare che all'interno di ogni azienda ci sia un soggetto che controlla. È necessario mettere a disposizione delle checklist, cioè delle modalità e delle buone pratiche operative che abbassano i rischi. Che cosa bisognerebbe fare in questo senso? Agire prima. L'Ispettorato del Lavoro e lo Spisal dovrebbero sviluppare un'attività di affiancamento, di accompagnamento e di vigilanza nei momenti, ad esempio, di assunzione di nuovi lavoratori.